Musica Ci troviamo all'interno della Cattedrale di Siena, alle nostre spalle l'Altare Maggiore, dove è esposta la sacra immagine della Madonna del Rumitorio di Orgia, che è stata portata qui dai parrocchiani di quel luogo in occasione dell'Ottavario della Domenica in Albis. Un dipinto sacro, un'immagine che ha una storia alle spalle incredibile. Ne vogliamo parlare con Monsignor Giovanni Soldani, che è il parroco di Orgia, di Brenna e anche di San Rocco Appelli. Grazie, benvolentieri. Ogni immagine è anche onorare la nostra popolazione, la nostra storia, la nostra fede meravigliosa. E' l'arte che è l'espressione mistica spesso della nostra gente che ha abitato in questi nostri luoghi, dove è fiorita una grande spiritualità, monumenti, arte, canti e dei sentimenti collettivi inestimabili. Questa Madonna del Rumitorio, che è una Madonna sconosciuta, umile, indisparte, in un santuario mariano in mezzo ai boschi, ne è una delle espressioni della spiritualità della nostra gente senese. Ecco, dicevo che questa Madonna ha una storia da raccontare, perché questo non è il dipinto originale che invece risale al 1300, proprio agli anni del XIV secolo. Un dipinto che fu esposto qui in cattedrale, nel Duomo di Siena, 240 anni fa. Quindi a distanza di quasi due secoli e mezzo si ripropone la visitazione di questa Madonna del Rumitorio, che però non è l'originale. In quanto nel 1867, quando fu esposta, fu riconsegnata agli abitanti di Orgia, agli Orgini, così vengono denominati, un dipinto nuovo di Zecca, perché l'altro era deteriorato dal tempo, un po' vetusto, un po' vecchio, tarlato. Era un dipinto di scuola senese fatto su tavola dorata. Gli Orgini accolsero benevolmente questo scambio e riportarono festanti il nuovo dipinto che qui vediamo alle nostre spalle in trionfo. Poi nel 1967 questo dipinto fu trafugato proprio dal Rumitorio, perché veniva conservato in questo, come possiamo chiamarlo, piccolo monastero incastonato nel bosco della Montagnola Senese. Poi fu ritrovato? Proprio da me che ebbi questa fortuna, che è una grazia, e anche con alcune persone della popolazione di Brenna andammo a fare una giratina con la macchina nel 1967. In quella occasione, che non si andava mai durante l'anno, una persona si mostrò in mezzo al bosco, si fece vedere in mezzo al bosco, proprio in quella mezz'ora, cioè si fece vedere. Era lì che stava guardando verso questo santuario e noi ingenuamente non ci pensò niente, ma ci pensò, ma che cosa farà questa persona? Dopo un po' di mesi si venne a sapere che era stata trafugata sicuramente per essere poi venduta e fu segnalato subito ai carabinieri e alla scientifica e fu ritrovata dopo qualche giorno. Noi l'abbiamo interpretato come la Madonna che vuole restare in mezzo alla gente. Queste sono storie che tra l'altro sono molto ben raccontate in un libro scritto da Luigi Cianferotti, che era il vecchio maestro della scuola di Orgia, dove oltre a questi fatti vengono anche raccontati molti aneddoti della gente del luogo. Gente del luogo che è molto devota a questa immagine, a questa Madonna. A lei ci si rivolgeva con delle suppliche in occasione degli aventi atmosferici, che ce ne sono stati tanti, come il famoso terremoto del 1907. 1907, sì, che si salvò praticamente il paese, la popolazione, anche sotto le mascerie senza mai avere avuto una conseguenza disastrosa. Come si racconta dal vecchio parroco che mi ha preceduto, che fu consacrata la popolazione nel passaggio del fronte, perché dobbiamo ricordarci che siamo vicini all'aeroporto di Ampugnano, quindi erano tutti zona militare e poi i bombardamenti avvenivano a lontano per prendere proprio la pista. Si trova sulla traiettoria della pista e non ci fu nemmeno un ferito o un morto lì in quella zona di tutta la pianura cosiddetta del Padule. Perché tutti i paesi hanno questo santuario mariano come grande devozione verso la Madonna che viene ricordata lì l'8 settembre. Ecco, dicevamo che questo dipinto era conservato in questa piccola chiesa, in questo romitorio, proprio sulla montagnola senese, che per raggiungere questo luogo da Orgia c'è un sentiero facilmente percorribile di circa 4 chilometri. Noi lo abbiamo fatto, è stata veramente un'esperienza positiva, fantastica, un bellissimo ricordo. Da quel giorno in cui fu ritrovato questo dipinto, poi fu deciso di conservarlo invece nella pieve di San Bartolomeo, che è proprio lì nel centro di Orgia, dove tuttora viene esposto. Viene conservato, sì. Si conserva nella pieve per rispetto e anche per paura che venga trafugato, perché è un attaccamento affettuoso come una cosa di famiglia, diciamo. Per cui si conserva lì. Ora pensiamo di restaurare questo santuario mariano in mezzo al bosco, che un pochettino sta diventando fatiscente, va un po' giù, il tetto viene poco visitato dai muratori, passa un anno all'altro e allora si pensa di restaurarlo, perché abbiamo un senso religioso anche del territorio. Perché l'interessante è che questa gente del luogo, in generale, dei boscaioli, incominciano i grandi boschi che finiscono fino alla Lucchesia e alle Maremme, cominciano lì. Quindi stavano messe e messe in mezzo ai boschi, tornavano ogni tanto a casa, neri dal carbone, dalla fatica. Alcuni morivano lì nei luoghi di lavoro, anche tragedie che avvenivano nel lavoro. E volevano sempre che ci fosse questa madonnina. Ecco, parlava dei boschi, Monsignor Giovanni. Boschi di cerro e castagni, ci sono tantissimi castagneti lì in quella zona. E tra l'altro, tra l'altro, che una parte di questo territorio, anche il Museo del Bosco, sono conservati delle testimonianze storiche proprio di questi lavori incredibili, come i seccatoi, per esempio, dove venivano riposte le castagne per essiccare, per poi farci una prelibata farina. Ecco, questa è una storia che ci appartiene, una storia del territorio, della nostra gente. È una storia che racconta di misticismo e di laicità, ma tutto in un contesto veramente territoriale molto interessante. Nel 1867, abbiamo detto, questa madonna fu esposta in occasione dell'Ottavario della Domenica in Albis e fu portata a piedi da Orgia fino a Siena. 1779. Sì, a Siena, raccontano proprio le tradizioni popolari dei vecchi che avevano trasmesso notizia che tutto il popolo di Orgia, a spalla con i carri e anche con i buoi, vennero fino alla periferia di Siena e poi la portarono a spalla. E poi la riportarono in trionfo al ponte di Orgia, perché è lì praticamente che c'è il sentimento dell'appartenenza alla comunità di Orgia, al ponte di Orgia, dove noi la riporteremo, beh, diciamo, in trionfo. Ecco, nel libro di Luigi Cianferotti viene raccontato che questa madonna era adornata da un manto azzurro, da un velo azzurro, che fu lasciato a Siena, esattamente nell'oratorio della contrada dell'Onda. Sì, questo si dice, ora credo che non so se sono riusciti a ritrovarlo, questo manto della madonna, e quindi è dentro anche questa nostra storia. C'è una connessione anche con le contrade, sì, diciamo. Questo tavario terminerà domenica prossima con una solenne cerimonia, poi l'immagine sacra, la madonna del romitorio. Visiterà i paesi, le parrocchie vicine, farà la madonna pellegrina in una quindicina di parrocchie. Andremo a visitare le popolazioni per portare l'affetto, la consolazione, perché è la madonna della povera gente. Lei non ci crederà, ma spesso, diciamo, proprio questi boscaioli, cinghialai e povera gente, lì sono due o tre poderi molto poveri, di terreno arido, però non potrebbero fare a meno di questa presenza, pur essendo a volte non tanto frequentatori delle messe, a volte anche bestemmiatori dentro il lavoro durissimo che avevano, però non potevano vivere senza la madonna del romitorio. Quindi con una giusta devozione. Bene, terminiamo questa chiacchierata. Anche interessante è che in quella zona ci sono state ricerche archeologiche, medievale o anche precedenti al Medioevo, quindi romano e tempo romano, e anche etrusco, di cui ci sono ormai vestigia e tombe che sono state trovate, manifesta tutta la montagnola, non solo abitata, ma di insediamenti antichissimi, si parla del Neolitico, soprattutto perché c'è il fiume Merse, e poi si incastona stupendamente nella presenza degli eremi del territorio senese che hanno fatto questo territorio, che dovremmo tutti riscoprire, uno dei luoghi mistici più interessanti collegati con l'Ecceto. Lì ci sono cinque eremi o luoghi chiamati Romitorio, dove stavano gli eremiti che giravano intorno all'Ecceto e che praticamente hanno fatto la storia di Orgia, la storia di Monticiano, un erimo era su Grotti, dove c'era abbiato Franco da Grotti, un altro a Santa Lucia, un altro sotto Monticiano al Conventaccio, erano tutti luoghi ricolmi di spiritualità. Di spiritualità sicuramente da visitare, un breve cenno storico sul rumitorio di Orgia, che risale veramente al 1300-1308, il primo frate, il primo eremita che abitò questo luogo fu Fra Cristoforo da Siena. Sono passati tantissimi secoli, però la devozione alla Madonna, la fede del popolo è sempre la stessa, sono segni storici che rimangono ben impressi nella mente di tutti noi. Quest'anno, tornando poi, la Madonna si tratterrà ancora e poi l'8 settembre, in quei giorni, faremo un festone come è consuetudine ogni... Prima era ogni 30 anni, ora si sta facendo ogni 10 anni un festone, quindi gli faremo una bella sicura. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.